Carissimi docenti, durante la scuola estiva di Arcevia 2020, io e i miei colleghi Marco Tibaldini, Mattia Scacchi e Sara Zanella, che condivideranno su questo canale altri video, abbiamo proposto un laboratorio dal titolo La didattica ludica integrata nei piani di lavoro della scuola primaria. Il mio intervento nel progetto ha l'obiettivo di condividere delle modalità per introdurre nel piano di lavoro della classe quarta della scuola primaria l'uso delle fonti in ausilio allo studio delle prime grandi civiltà del passato. Le domande che vi dovete fare sono le seguenti. I miei studenti sono in grado di leggere una fonte storica e di ricavare da essa dei dati corretti. Come faccio a trasmettere loro questa capacità? Io sono una studentessa di archeologia all'Università degli Studi di Milano e per me l'esatta lettura e interpretazione del dato archeologico è fondamentale per la comprensione degli eventi passati. Per questo è uno strumento che vorrei fosse sempre proposto e illustrato agli studenti fin dalla scuola primaria, di modo che con il tempo diventino padroni di questa capacità e che possano affrontare lo studio della storia con un approccio interpretativo personale e critico. In questo video perciò prima introdurrò il concetto di fonte. Poi mostrerò qual è la classificazione delle fonti e come possiamo leggerle e interpretarle. Farò quindi molti esempi che possano dare un'idea precisa di come operare a seconda dei casi. Infine lascio a disposizione una serie di spunti di lavoro appositamente scelti e adatti alle tematiche e al periodo storico che si va ad affrontare nel corso della classe quarta elementare della scuola primaria. Si tratta di fonti materiali e scritte che concernono i macroelementi con cui i vostri alunni entreranno in contatto. Vorrei specificare che uno degli obiettivi di questo laboratorio proposto durante la scuola estiva di Arcevia 2020 è quello di condividere con i docenti una diversa idea di programmazione della materia storica. Invece di proseguire per singole civiltà come fossero scompartimenti a sé stanti, è bene affrontare i periodi proposti con una mente più aperta a livello specialmente spaziale. Bisogna avere in testa l'idea di un Mediterraneo di scambi, di contemporaneità e di successioni, di influenze reciproche sotto tutti gli aspetti della cultura. Ecco perché, anche le fonti, devono essere lette in questo modo, non come il singolo oggetto nel momento, nel luogo e nella civiltà specifica, ma come un materiale che può mostrare verità diacroniche disparate. Un'altra brevissima premessa. Come ho detto in questa presentazione, fornirò soprattutto esempi che riguardano il periodo storico in esame, ma le modalità di lettura e di interpretazione di una fonte sono le medesime per qualsiasi cultura umana. Pertanto questo discorso vuole essere anche intrapreso per fornire elementi utili per le interpretazioni storiche a livello più generale. Iniziamo! Partirei dal concetto di monumentum, una parola che sentiamo spesso, ma della quale forse non conosciamo tutti i significati. Questa deriva dal latino e significa ricordo. Mentre nel passato si poteva perciò attribuire a qualsiasi oggetto che era stato creato ed è posto per essere testimonianza di un evento o di una personalità, si pensi ai grandi edifici romani finanziati dai privati imperatori. Oggi è un termine che usiamo per indicare il monumento come oggetto fisico, un palazzo, un arco, un anfiteatro, un tempio, un'abitazione, per l'appunto un edificio che ci trasmette un ricordo del passato. In realtà ogni oggetto appartenente a un periodo più remoto che ritroviamo, anche il più piccolo può essere chiamato monumentum perché è una testimonianza, una fonte proveniente dal passato, lasciata ora intenzionalmente, ora no. Quella che definiamo come traccia storica è perciò ogni indizio che si può estraporare ed interpretare dalla lettura dell'oggetto e che proviene dai siti archeologici, dagli edifici, dalle scritture, dai monumenti, da quella che in gergo scientifico è detta la cultura materiale. La fonte è perciò la base dell'indagine storica, qualsiasi conoscenza storica che abbiamo acquisito fino ad oggi deriva dalla lettura e dall'interpretazione di una testimonianza. Passiamo ora alla classificazione delle fonti. Classificazione formale comprende fonti scritte, ovvero iscrizioni su diversi supporti come terracotta, metallo, pietra, ceramica, papiro, fonti figurate o iconografiche, pittura rupestre, statuette, basso rilievi, fonti mute, per esempio un sito archeologico e fonti orali. Classificazione gerarchica si divide in fonte primaria non mediata da interpretazioni e fonte secondaria, mediata da interpretazioni, ricostruzioni. Classificazione sulla volontarietà, fonte lasciata volontariamente, per esempio un tempio greco, un edificio romano, delle tombe private, oppure una fonte lasciata involontariamente, per esempio un focolare paleolitico, un aratro neolitico, tracce archeozoologiche, antropologiche e archeobotaniche. Classificazione tipologica comprende fonti archeologiche, letterarie, epigrafiche, papirologiche, numismatiche. Andiamo ora a mostrare i diversi esempi delle fonti tipologiche. Iniziamo con le fonti archeologiche. Tra queste possiamo trovare fonti che ci danno informazioni sull'urbanistica e sull'architettura nel passato, cioè i resti di un sito archeologico, di un tempio, di edifici pubblici e privati. Altre che ci danno informazioni sulla società e sull'economia nel passato. Strumenti da lavoro, armi, gioielli, resti di indumenti, scene di caccia, di banchetto. Questi determinano stili, cronologie, monnelli artistici, tecniche, dati storici, consuetudini di vita quotidiana. Fonti che ci danno informazioni sul culto, sulla religione. Possono essere figurine di animali, persone, scene di culto, necropoli, urne, manufatti rotti volontariamente presso alcuni templi. Come primo esempio propongo la lettura e l'interpretazione di una fonte archeologica muta. Decido di non rivelarvi nemmeno di che sito si tratta. Propongo di procedere semplicemente con la descrizione dell'immagine, di modo che possiate capire cosa intendo come interpretazione deluttiva di una fonte. Osservando l'immagine, la prima cosa che si nota è che si tratta di una porta, di un passaggio, con un'architrave, sormontata da una lastra triangolare che raffigura due leoni in alto rilievo. Si nota che questa è inserita in un complesso murario più ampio e che prosegue anche verso l'interno. Si intravedono le montagne e questo può far pensare che l'abitato si collochi in altura. Altri elementi che si possono notare facilmente sono i blocchi di costruzione delle mura, di pietra, squadrati e di diverse dimensioni, legati a sé da argilla seccata al sole. Ebbene, a seguito di una semplice descrizione come questa, le cose che si possono capire sulla civiltà in esame sono già molte. Prima di tutto si può dire che non solo costruiva i siti in altura, probabilmente per avere una visione migliore di tutta la vallata circostante e quindi del territorio che gli apparteneva, ma che per questioni quasi sicuramente di protezione i cittadini avevano eretto delle mura difensive di grandi dimensioni. Alla città si accedeva quindi tramite delle porte, tra cui questa in particolare, che comprende al di sopra anche un elemento simbolico quale può essere l'alto rilievo dei leoni, simbolo di forza e regalità. Inoltre, altro elemento è il tipo di costruzione dell'alzato, semplice, in pietre di diverse dimensioni e con una porta con architrave ancora orizzontale, il che dimostra che si tratta di una civiltà che non aveva sviluppato metodi di costruzione più raffinati e innovativi, quali possono essere l'arco o le decorazioni policrome. Ecco, ora vi posso dire di che civiltà si tratta. Questa immagine raffigura la porta dei leoni del sito di Micene, in Argolide, nel Peloponneso, capitale della grande civiltà palazziale dei Micenei, attiva dal XV al XII secolo a.C., che ha dominato il mar Mediterraneo e ha gettato le basi delle civiltà future, a partire da quella greca. Il sito è stato scoperto da archeologi tedeschi nella seconda metà del XIX secolo ed è stato scavato completamente, portando alla luce i resti dell'intero sistema insediativo. In questa immagine vi mostro una fotografia aerea delle rovine sulla sinistra e la pianta ricostruttiva del sito sulla destra. Dopo aver scoperto di che civiltà stiamo parlando, ecco che da questa altra immagine si può dedurre qualcosa del tipo di società che la caratterizza. Vediamo dove è situata la grande porta precedentemente descritta. Si vede sull'immagine sulla destra, accesso tramite la colossale porta dei leoni. È seguita da una rampa che porta verso gli appartamenti reali che accolgono anche la sala del Megaron. A est della porta e quindi all'entrata della città si trovano le tombe reali e le case dei guerrieri. Ecco, già con così pochi elementi si capisce subito che il livello organizzativo di questa civiltà era impostato su base gerarchica, dove i grandi capi vivevano nella parte più alta della città, più vicino agli dèi, ed è lì che accoglievano altri personaggi eminenti nella sala del Megaron, un ampio spazio rettangolare presente anche in altri grandi palazzi della stessa epoca, quali quelli di Knosso e di Tirinto. Un vano pensato per accogliere un gran numero di persone e quindi interpretato come luogo di apparizione del grande capo. Altro elemento che si nota da questa ricostruzione è che le tombe si trovano nella parte più bassa della città. Vi posso dire, poi, che in questo settore è stata ritrovata la famosissima maschera di Agamennone, mentre all'esterno delle mura sono state scavate altre tombe a Tolos, tra cui il tesoro di Atreo, la grande tomba attribuita al padre di Agamennone. Ovviamente queste attribuzioni derivano dalla lettura dei siti su base mitica, e spesso sono anche titoli che hanno l'obiettivo di attirare i turisti. In verità non si ha la certezza né che la maschera né che la tomba siano attribuibili ad Agamennone o Atreo, e nemmeno si può dire che questi personaggi dell'Iliade siano davvero esistiti. Coloro che di sicuro sono esistiti erano i grandi capi di questa civiltà palazziale, che potevano avere la stessa importanza e le stesse caratteristiche attribuite alla figura di Agamennone. Con questa diapositiva vorrei dimostrarvi quanto sia importante nello studio di un sito archeologico unire i dati ritrovati nei livelli di abitato a quelli ritrovati nei settori delle necropoli. Come ho detto, Micene accoglie due necropoli, una interna alle mura della città e una esterna, rispettivamente dette del circolo A e del circolo B. E tra quelle esterne si trova il famoso dromos di Atreo, l'immagine in basso a destra. In realtà la lettura fondamentale da svolgere riguarda i corredi funerari delle tombe, che confermano non solo che la civiltà era a base gerarchica, le tombe infatti presentano corredi diversi a seconda della ricchezza della famiglia, pochissime contenevano oggetti in oro. Confermano anche che la civiltà aveva un assetto territoriale, cioè che il palazzo governava sui territori circostanti e anche che era formata da una buona parte di guerrieri, sepolti con armi in bronzo. Questo fa pensare che la civiltà descritta fosse una civiltà guerriera, e cioè che impiegava una parte della popolazione nell'esercito, che aveva il compito di controllare i territori di influenza e di combattere, quando necessario, in momenti di espansione o di scontri con gli altri palazzi. E qui termina il mio discorso sul sito di Micene. Spero che con questo esempio risulti chiara l'importanza di usare le fonti il più possibile nel vostro percorso di insegnamento della storia e di incorporarle con nozioni specifiche come ho fatto io nel corso della spiegazione. La lezione rimane in questo modo decisamente più chiara e interattiva agli occhi dei giovani studenti, perché in un primo momento hanno potuto in prima persona dedurre dalle immagini quello che poi può essere confermato o smentito, qualora arrivassero a deduzioni sbagliate dall'insegnante. Proseguiamo. Per terminare l'area archeologica della classificazione delle fonti su base tipologica, vorrei parlarvi non di siti, ma di oggetti che possono essere utilissimi per la lettura della civiltà cui appartengono. Intanto devo dire che durante degli scavi archeologici i materiali che si riportano alla luce sono moltissimi, di differente materia, forma, uso, significato. Si può trattare di vasi, e cioè dell'affascinante materia della ceramografia. Dal materiale di produzione, dalle modalità di trasformazione della materia prima, dai metodi di cottura e dalle incisioni o immagini, si ricavano informazioni disparate ed essenziali per lo studio della popolazione che le ha commissionate, prodotte, vendute, esportate e infine deposte volontariamente o involontariamente. Lo stesso si può dire della statuaria, della coroplastica, ossia l'universo degli alto e degli basso rilievi, della glittica, cioè il trattamento di materiale prezioso per la realizzazione di un manufatto, delle stele in pietra o terracotta, dei semplici strumenti di uso quotidiano e di uso lavorativo. Il campo di indagine è davvero vasto e comprende in verità qualsiasi oggetto antropologico creato dall'uomo. Passiamo velocemente in rassegna alcuni esempi. Ho scelto elementi che riguardano per l'appunto le civiltà che ti prendono in esame in quarta elementare e che potrebbero essere usati come ausilio, come fonte per la comprensione del popolo in corso di studio. In questa diapositiva vedete una statuetta che raffigura un personaggio maschile inginocchiato, in atto di preghiera e di devozione, interpretabile come un personaggio eminente che si rivolge a una divinità oppure al sovrano. Il materiale è bronzo, impreziosito con rivestimento in lamina d'oro sul volto e sulle mani. Nel piccolo basamento, dove si inginocchia il personaggio, sono raffigurati l'orante stesso davanti a una divinità in trono e affiancato da un montone come animale sacrificale. È stato ritrovato a Larsa, a pochi chilometri da Uruk, un'antica città sumera, forte politicamente e militarmente, e attiva specialmente dal periodo che va dal 2000 al 1600 a.C. La statuetta è attribuibile per l'appunto al periodo più presente della città. Il XVIII secolo a.C. Quello che si può dedurre da questa piccola statuetta è l'usanza di realizzare statuette votive e di dedicarle a dei o sovrani a seguito di un rituale che comprendeva quindi anche il sacrificio di un animale e che aveva l'obiettivo di richiedere qualcosa in cambio, per esempio terre o prosperità, o nazioni che sicuramente si potevano permettere solo i personaggi più abbienti della città. In questo caso stiamo parlando di una statuetta che appartiene alla civiltà sumera. In quest'altra diapositiva vediamo invece la famosa stele di Hammurabi, un oggetto informativo che si propone spesso agli alunni come metodo per introdurre la figura di questo sovrano babilonese particolare che nel XVIII secolo a.C. decise di dettare le leggi al suo popolo mettendole per iscritto. Quello che consiglio di fare per una lettura completa dell'opera è di concentrarsi sui paragrafi più importanti del codice per comprendere l'organizzazione della civiltà sotto questo sovrano e di prendere in esame anche il tipo di scrittura, cioè il cuneiforme, la simbologia della lunetta, il luogo di ritrovamento, cioè susa, ed il tipo di supporto, cioè la pietra indiorite. Il codice comprende 282 paragrafi che spaziano dai campi dell'amministrazione a quelli della giustizia fino a un epilogo che contiene maledizioni per tutti quelli che non rispetteranno le regole dettate. È iscritta in caratteri cuneiformi che esprimono la prima grande scrittura usata a livello regionale nel vicino Oriente Antico e la cui storia di decifrazione è illuminante e per questo invito a cercare informazioni a riguardo e a introdurre nel programma. Nel corso della mia spiegazione ritorneremo comunque sul cuneiforme quando parleremo delle fonti letterarie. Per quanto riguarda la lunetta, essa raffigura a Murrabi stesso, sulla sinistra, in piedi, che partecipa a un colloquio divino con il dio Shamash, in trono, a significare che le leggi stesse sono decise in riunione con il grande dio della giustizia e dell'equità e per questo sono leggi sacre. Interessante un pensiero sul luogo di ritrovamento, non Babilonia, ma bensì Susa, capitale del regno Elamita. La stelle fu infatti trasportata qui da un sovrano nel 1175 a.C. come bottino preso dalla città di Babilonia, occupata nel corso dei secoli da differenti civiltà, tra cui gli Assiri, i Persiani, i Sassanidi. Infine, un appunto sulla diorite nera, una roccia difficilissima da lavorare e scolpire e per questo usata poco in antività. Inoltre, c'è da dire che dallo studio geologico del territorio è stata possibile muovere l'ipotesi che il materiale venisse importato probabilmente da regni dell'attuare Turchia orientale. Non esistevano infatti cave di diorite nei pressi di Babilonia. Segue e termina la breve rassegna l'alto rilievo di Attusili, datato al XIII secolo a.C. e quindi al momento in cui Attusili III governava l'impero Ittita. Il sovrano è conosciuto per aver partecipato alla battaglia di Kadesh e per aver gestito con enorme diplomazia il problema della poca stabilità del confine nord del regno. Sono qui raffigurati il sovrano e la moglie Pudu Keba, in processione, che recano offerte al dio della tempesta e alla dea Kebat, o madre di tutti i viventi. Interessante il fatto che l'alto rilievo si trovi nella località Feraktin, in una zona montuosa della Turchia meridionale, a oltre 250 km di distanza dall'antica Attusa, dove il sovrano governava. Qui sono stati ritrovati anche altri alto rilievi e per questo è conosciuto come il sito che ne ospita di più in tutta l'Anatolia. Gli altipiani montuosi erano infatti particolarmente venerati in epoca Ittita e considerati come dimora degli dèi, o comunque come luoghi dove l'uomo poteva più facilmente comunicare con questi. È probabile quindi che Attusili III avesse commissionato l'opera nei pressi di quello che doveva essere un vero e proprio santuario locale. Passiamo alla seguente classificazione tipologica, le fonti letterarie. Con fonte letteraria si intende qualsiasi fonte scritta arrivata fino a noi. Si tratta principalmente di corrispondenze e rendiconti commerciali che si trovano in archivi e biblioteche antiche. Le fonti possono essere dirette e cioè non mediate da interpretazioni successive, non riscritte da storici del passato più remoto o più recente, sono da noi traslitterate, decifrate, interpretate. Le fonti indirette invece sono quelle mediate, trascritte dai grandi storici del passato e tramandate ai posteri. Per esempio, storici come Erodoto, Socrate, Aristotele, Platone, Livio, Strabone. La differenza tra i due tipi è che le fonti trascritte da altri vanno sempre interpretate un terrormente, mettendo in campo le conoscenze sul periodo storico cui appartiene la riscrittura e pertanto a tutti quelle che potevano essere le difformità rispetto all'iscrizione originale. Le fonti dirette hanno la caratteristica di essere spesso e purtroppo frammentarie e di difficile interpretazione. Bisogna pensare che le più antiche sono sempre scritte in lingue ad oggi ancora poco conosciute, mentre quelle secondarie sono maggiormente in greco e latino. In entrambi i casi si tratta comunque di elementi di particolare importanza. Si parla dello studio non solo dell'informazione inserita nella fonte, ma intrinsecamente anche del motivo per il quale era stata scritta, fosse per fini commerciali, amministrativi, politici, sociali. Passiamo ad alcuni esempi stimolanti. Sottolineo che, come per le fonti archeologiche, anche queste possono essere proposte direttamente agli alunni all'interno del programma di studio di un determinato periodo storico. Devo aprire ora una parentesi sulle lettere di El Amarna, una città del Medio Egitto dove è stato ritrovato uno dei più grandi archivi dell'antichità. Le cosiddette lettere di Amarna sono un lotto di circa 380 documenti redatti in cuneiforme su tavolette di argilla, rinvenute nel 1887 nel Medio Egitto, ad Amarna, nell'area di scavo intorno all'antica Akhetaton, città fondata nella seconda metà del XIV secolo avanti Cristo, da Akhenaton, faraone egizio della XVIII dinastia. L'archivio risale al periodo in cui Akhenaton spostò la capitale da Tebe ad Akhetaton e comprende testi databili ai periodi di regno di Amenhotep III o Amenofi III, del figlio Amenhotep IV o Amenofi IV, che cambiò il nome in Akhenaton, cioè venerante di Aton, fino ai primi anni di regno di Tutankhamon. Perciò si tratta di un periodo di soli 15-30 anni nel corso del XIV secolo avanti Cristo. Per lo più il lotto comprende la corrispondenza tra i faraoni d'Egitto e altri regni del vicino Oriente asiatico. La lingua usata nelle tavolette è soprattutto l'accadico, in particolare il babilonese medio, lingua diplomatica dell'epoca. Nonostante ciò si notano delle differenze linguistiche a seconda del luogo di provenienza delle lettere, e quindi della cultura e lingua madre dei rispettivi scrivi. In linea di massima, l'archivio viene suddiviso in due grandi aree di interesse. Rapporti con sovrani stranieri, indipendenti dall'Egitto e pare al faraone, detti grandi re, e lettere relative a rapporti con altri re stranieri, indicati come piccoli re, la maggior parte dei quali erano regni vassalli dell'Egitto nell'area del Levante. I temi delle lettere del primo gruppo sottolineano in special modo scambico cerimoniali di doni, politiche matrimoniali, felicitazioni per un'intronizzazione recente. Del secondo gruppo, la gran parte è composta da risposte dei piccoli re a lettere di cui non si ha conoscenza, o autonome richieste di aiuto dei piccoli regni vassalli. Vediamone insieme una che riguarda delle trattative matrimoniali in corso tra re di Babilonia ed il faraone Amenhotep III o Amenofi III. Akadashman Enlil, re di Cardoniash, mio fratello di, così dice, Nibmu-wa-ri-ia, grande re, re d'Egitto, tuo fratello. Io sto bene, salute a te, alla tua casa, alle tue mogli, ai tuoi figli, ai tuoi cavalli, ai tuoi carri, nel tuo paese tanta salute. Io sto bene, la mia casa, le mie mogli, i miei figli, i miei cavalli, i miei carri, le mie truppe numerose stanno bene e nelle mie terre tutto sta molto bene. Ho appena udito le parole che tu mi hai scritto, così, ecco che tu desideri in moglie mia figlia. Ma mia sorella, che mio padre ti diede, è già laggiù con te e nessuno l'ha più vista, né si sa se è ancora viva o se è morta. Queste sono le parole che mi hai trasmesso. Ma hai mai inviato qui un dignitario dei tuoi che la conosca e che possa identificarla? In questa lettera, Kadashman-in-lil, è il re di Babilonia, chiamata qui Cardoniash, mentre Nibmu-wa-ri-ia è Amenhotep-terzo. Si tratta di una risposta del faraone a una precedente lettera ricevuta dal re di Babilonia, che chiedeva informazioni riguardo a una sua sorella, inviata precedentemente dal padre in Egitto perché potesse diventare moglie del faraone. Ecco che il re di Babilonia chiede che venga ritrovata questa sua sorella promessa sposa, prima di mandare in moglie una sua figlia. Al che Amenhotep-terzo, che non ha ancora ricevuto questa donna in sposa, chiede al re di Babilonia se ha mai inviato dignitario in Egitto che possano riconoscerla e lo esorta in ogni modo a farlo. Questo è solo uno spezzone dell'intera trattativa che comprende varie lettere scambiate tra i due per arrivare a un accordo e per verificare che questa sorella sia effettivamente arrivata in Egitto. In questa diapositiva vediamo un esempio che proviene da archivi ugaritici e che denuncia un momento di fame e carestia ad Ugarit. Sapete che c'è la carestia nelle mie terre? È una questione di vita o di morte. C'è carestia nella nostra casa. Moriremo tutti di fame. Se non arrivate in fretta, anche noi moriremo di fame e non vedrete neppure un essere vivente nelle nostre terre. Anche quest'altri esempi provengono da archivi ugaritici e testimoniano delle invasioni. Migrazioni ed invasioni nel Levante. Il re di Ugarit scrive al suo collega, il governatore Ittita di Karkemish, preoccupato per la comparsa di navi nemiche. Ecco la risposta del governatore Ittita. Mi avete scritto. Sono state viste a largo delle navi nemiche. E allora il consiglio è rimanete inflessibili. Per quel che riguarda voi, dove sono i soldati ed i carri? Sono vicino a voi? Circondate le vostre città di mura. Portate la fanteria e i carri dentro la cinta. Sorvegliate i nemici e fortificatevi. Il re di Ugarit aveva poi chiesto aiuto anche al re di Cipro. Padre mio, formula di cortesia usata per sottolineare una condizione di subordinazione. Ora sono arrivate le navi del nemico. Hanno messo a fuoco le mie città ed hanno portato distruzione alla mia terra. Non sa forse mio padre che tutta la fanteria ed i carri da combattimento stazionano nella terra di Catti, regno Ittita, e che tutte le navi sono ferme nella terra di Lucca? Non sono ancora ritornati ed il paese è prostrato. Che mio padre lo sappia. Ora le sette navi del nemico che hanno attaccato o hanno recato danno. Se arrivano in porto altre navi nemiche, mandatemi un resoconto in modo che io possa essere informato. Queste rettere affrontano tematiche di carestia e di invasioni. Le tematiche della carestia, del cambiamento climatico, del depauperamento delle terre, delle migrazioni, delle invasioni, della pressione demografica, sono tutti interpretati come le cause del cosiddetto collasso dell'età del bronzo. Quel periodo di passaggio tra bronzo e ferro che vede la caduta di moltissime città, nonché la scomparsa e la mobilitazione e migrazione di genti. Per una comprensione più approfondita di questo periodo consiglio la lettura del volume di Eric Klein, 1177 a.C., un volume che sicuramente dà più luce sulla comprensione di questo importantissimo momento storico. Vi ho scritto tutte le informazioni a riguardo nella bibliografia alla fine della presentazione. Uno degli obiettivi del nostro gioco di ruolo per la classe quarta è anche questo, l'introduzione nel programma di storia dell'anno scolastico in questione di questo evento poco rappresentato nei libri di testo e scarsamente affrontato con gli alunni. Il mondo di allora non cambiò semplicemente da un giorno all'altro ed i mutamenti non si risolvono di certo nel mero passaggio tra la costruzione di oggetti in bronzo a quella di strumenti in ferro. Nessuno ad oggi conosce le reali cause, il dibattito è ancora aperto e per questo nemmeno noi docenti e studiosi possiamo presentare delle idee come certezze. Ma è bene fin dalla scuola primaria tenere presente questo dibattito e non presentare ai giovani studenti il problema come inesistente o come passaggio repentino e sconcatenato da un'era ad un'altra. Passiamo ora alle fonti epigrafiche. Sono tutte quelle fonti letterarie incise su supporti durevoli quali ceramica, pietra, terracotta, marmo, iscritte in basso rilievi, iscritte in elementi architettonici. Possono essere pubbliche, cioè iscrizioni che erano state scritte da personaggi eminenti e sovrani come informazione per una certa quantità di persone o per l'intero corpus cittadino. Oppure private, cioè quelle fonti che erano pensate per essere lette solo dai diretti interessati in una corrispondenza oppure solo dalla famiglia del mittente. Spesso queste sono epigrafi funerarie. Danno informazioni sulla storia politica, economica, prosopografica e sociale. La storia prosopografica comprende fonti che forniscono dati iconografici e biografici su personaggi illustri e che permettono la ricostruzione per esempio dell'aspetto fisico di un individuo. Per parlarvi delle fonti epigrafiche avevo pensato di analizzare insieme delle tavolette. Nel periodo storico affrontato con i vostri studenti le scritture in uso nel Mediterraneo erano le seguenti. Il proto cuneiforme. All'origine della forma tipica di questa scrittura c'è una motivazione di carattere tecnico. Si tratta infatti delle impressioni lasciate sull'argilla da stili di canna a sezione triangolare allungata, a forma cioè di cuneo. I segni della scrittura proto cuneiforme erano originariamente numerosissimi, circa un migliaio. Nel corso del tempo il loro numero diminuì e solo alcune centinaia erano normalmente utilizzati. La loro forma inoltre, in origine molto compressa, subì un processo di semplificazione e di regolarizzazione. La rappresentazione pittografica divenne sempre più stilizzata e le forme sempre meno riconoscibili da quelle originarie. Il cuneiforme. Segue il proto cuneiforme ed è caratterizzata da una standardizzazione ulteriore delle forme. La grande novità di questa scrittura è il passaggio da una componente quasi solo pittografica a una di carattere sillabico. Nel corso del secondo millennio avanti Cristo questa scrittura divenne appannaggio della nuova cultura babilonese e assera, detta globalmente accadica, e data la propria struttura fortemente sillabica potè essere usata per esprimere altre lingue come l'Elamita e l'Ittita. Essa rappresentò anche la base e l'ispirazione da cui vennero create le scritture di Ugarit e quella Achemenide dell'impero persiano. Lineare A e geroglifico cretese sono ancora in attesa di decifrazione. La lineare A è uno dei due sistemi di scrittura utilizzati nell'isola di Creta, prima del sistema di scrittura dei greci micenei detto lineare B, insieme ai geroglifici cretesi. Durante il periodo minoico, prima del dominio miceneo, la lineare A fu utilizzata come scrittura ufficiale nei palazzi e per i riti religiosi, mentre i geroglifici venivano utilizzati soprattutto sui sigilli. La lineare B fu un sistema di scrittura a carattere sillabico utilizzato dai micenei per denotare graficamente la loro lingua, risultata essere una forma arcaica della lingua greca. Le prime testimonianze di questa scrittura si trovano su tavolette risalenti ai secoli XIV e XIII a.C. Nel 1952 Michael Ventris scoprì che la lineare B veniva usata per mettere per iscritto un dialetto greco, noto oggi come miceneo. Insieme ad altri utilizzò questa scoperta per decifrare la lineare B. Il fallimento nel determinare la lingua trascritta con la lineare A ha impedito lo stesso tipo di progresso fatto con la lineare B nella sua decifrazione. Il geroglifico è anch'essa una scrittura che combina elementi ideografici, sillabici e alfabetici, utilizzata in Egitto e conosciuta in tutto il vicino Oriente Antico. A seguito della scoperta del frammento denominato Stele di Rosetta è stato possibile decifrarla già nel corso del XIX secolo. La Stele fortunatamente presentava infatti un testo scritto sia in geroglifico, sia in greco antico, che in demotico. Il demotico è un altro dialetto sillabico egiziano, usato soprattutto per documenti comuni non ufficiali. Vi fornisco qui alcuni esempi. Queste sono delle tavolette in terracotta provenienti da Uruk. Uruk è uno dei siti che ne ha restituite in maggiore quantità e sono tutte risalenti al quinto millennio avanti Cristo. Si tratta di esempi di protocuneiforme. È stato possibile riconoscere che i segni erano inizialmente di natura simbolica. Le semplici linee indicavano numeri, alcune forme invece degli oggetti, ed in generale erano usati per aiutarsi nelle azioni di conta, di materiale e di stoccaggio, nonché di commercio. In questa altra diapositiva vi mostro la corrispondenza tra i tokens ed i primi segni pittografici. Infatti inizialmente per la conta degli oggetti venivano usati questi gettoni di forme differenti. Ad ognuno di essi corrisponde un pittogramma. Questi segni nel corso del tempo e come accennato in precedenza divennero sempre più stilizzati e diversi dall'originale. Ecco che si andarono a formare i primi caratteri del protocuneiforme, gli stessi che nel cuneiforme si tradussero in segni più strettamente sillabici. Tra quelli sottolineati in giallo possiamo vedere il segno del numerale 1, di una veste in tessuto, di un vaso litico, del granaio, della vacca, il segno del metallo, il segno della collina, il segno della pecora o dell'agnello e così via. Passiamo invece a due esempi della lineare A e del geroglifico cretese. A sinistra un esempio di una placchetta proveniente dal sito di Cnosso, da strati del secondo millennio avanti Cristo, la quale è stata perforata e incisa con segni geroglifici, la forma di scrittura più usata nell'isola in quel momento specifico. Non se ne conoscono purtroppo ancora né la funzione né la traslitterazione. Invece a destra ritroviamo il famoso disco di festo, ritrovato per l'appunto in questo sito, cretese, in strati archeologici del XVII secolo avanti Cristo. Su questo reperto sono stati effettuati studi approfonditi che hanno portato a una sua più completa interpretazione. Trovato proprio da una spedizione italiana sull'isola nel 1908 sotto il muro di un palazzo minoico, l'ubicazione originale è ancora discussa. Contiene 241 simboli incisi in ordine concentrico, quando l'argilla era ancora fresca, su entrambi i dati. Sebbene gli studiosi non siano ancora convinti sul tipo di scrittura utilizzato, che potrebbe essere un tipo di lineare A, ma ha anche affinità con il geroglifico anatolico ed egiziano, molti segni sono stati interpretati, poiché riconoscibili come pittogrammi specifici. Si riconoscono infatti simboli di bambino, donna, uomo, testa, tatuaggio, elmo, freccia, arco, pettine, aquila, vite, gatto, papiro e parecchi altri. Inoltre è stato possibile riconoscere delle vere e proprie parole, cioè un insieme di segni e significato sillabico. Nonostante questa buona conoscenza dei segni, e nonostante sono state mosse varie ipotesi sulla sua decifrazione, che fosse una storia narrativa, un gioco da tavolo, un teorema geometrico, un testo di culto, ad oggi nessuna è stata accreditata dalla comunità scientifica, ed è per questo che rimarrà un grande mistero archeologico, fino a che non si porteranno alla luce altri elementi che potranno condurre alla sua interpretazione e traduzione, così come avvenne per il geroglifico egizio. Passiamo invece alle tavolette in lineare B. Vi mostro qui una serie di tre tavolette. Come precedentemente specificato, questo tipo di scrittura è stato parzialmente decifrato nel corso del XX secolo, e si tratta di una scrittura geroglifico-sillabica, cioè basata sia su segni identificativi, sia su tratti che hanno per lo più una corrispondenza fonetica. Il primo esempio, in alto a sinistra, proviene dalla casa del mercante d'olio di Micene, datata al XIII secolo avanti Cristo. Ci testimonia la conta di matasse di lana che sta per essere lavorata. Pertanto si tratta di un appunto ai fini di un successivo immagazzinamento della materia prima. Sotto vi fornisco una traslitterazione dei segni. Il luogo di ritrovamento è stato chiamato così proprio perché molte altre tavolette venute alla luce qui documentavano la conta di olio. Pertanto doveva trattarsi della zona di lavoro e stoccaggio di materie prime di un mercante. Il secondo esempio, a sinistra, al centro, è quello della tavoletta della signora del labirinto. Si tratta di un frammento di terracotta che presenta un'iscrizione su un lato e l'incisione di una linea spezzata aperta sull'altro, detta labirinto per la particolare forma. Datata al XIV secolo, ritrovata a Cnosso e decifrata da Michael Ventry stesso, fu una delle tavolette che permisero la comprensione della scrittura lineare B. Nella traslitterazione che vedete nella diapositiva si fa riferimento a una potinia, che corrisponde alla parola greca potnia, cioè signora, donna, dea. In epoca greco arcaica, per esempio, in tutto il Mediterraneo, la potnia teron era considerata la dea madre degli animali e questa parola fu poi attribuita a molte altre idee ed è stata la chiave di decifrazione della scrittura stessa. In particolare in questa tavoletta, probabilmente a carattere cultuale, è riportata l'informazione di un dono di un'anfora di miele a questa dea. Il labirinto posto sul retro è stato interpretato come un edificio di culto, forse il tempio dove a Cnosso si portavano offerte a questa grande dea secolare femminile. L'ultima tavoletta a destra è un altro semplice esempio di lineare B, datata al XVI secolo e proveniente sempre da Cnosso. Qui si fa riferimento a un vestito lavorato con tre matasse di lana. Quindi va a rientrare ancora una volta nella sfera del lavoro di produzione mercantile. Nella seguente diapositiva ho voluto indicare i campi cui di solito si riferiscono le tavolette in lineare B, per farvi notare soprattutto che la scrittura in questo periodo storico era usata maggiormente per necessità economiche e quindi di conservazione e inventarizzazione di prodotti. La maggior parte delle tavolette sono state ritrovate nei pressi di palazzi di epoca micenea, come Micene e Cnosso. Da ciò diventa chiaro quanto fosse importante il luogo del palazzo in campo politico, culturale e amministrativo, a tal punto da essere il custode di queste tavolette incise in una forma di scrittura che era conosciuta da diversi popoli a livello interregionale. Vi leggo a titolo informativo alcune parole note della lineare B. Wanaka, il signore, il capo supremo della comunità palazziale. La Rauacheta, colui che guida il popolo, forse un capo di tipo militare. Damokoro, forse governatore di provincia. Notiamo che in greco il damo, il demos, è il popolo. Terre Chitimena, forse terre private. Terre Chechemena, forse terre pubbliche. Il Quasireu, diventa in greco Basileus e denomina il monarca. Invece il lineare B poteva forse indicare il capo dei fabbri. Come ultimo appunto sulle forme di scrittura del periodo descritto, apro una breve parentesi su quella ad oggi più trattata e riconosciuta anche a livello didattico, il geroglifico. La vastissima conoscenza che abbiamo del popolo egizio, che è dovuta alla grande possibilità di studio in loco nel corso degli ultimi due secoli, ha permesso il ritrovamento di una quantità enorme di materiali e di siti che ha condotto a uno studio davvero approfondito di questo popolo del Mediterraneo a livello accademico. La verità è che le possibilità di questo enorme e significativo lavoro sono anche politiche e di accessibilità dei siti. Infatti la stessa cura, gli stessi permessi, la stessa sicurezza durante le campagne di scavo, non sono state possibili specialmente nel corso dell'ultimo secolo in altre zone del vicino Oriente Antico e dell'Africa, dove le culture pullulavano e prosperavano tutte a loro modo nel corso del terzo e del secondo millennio a.C. Io stessa devo ammettere che anche a livello accademico in Italia la cultura egizia è espressa in modo molto più completo e approfondito rispetto a quelle ittita, babilonese, sumera, ebrea, elamita, cananea e molte altre. Ebbene c'è speranza che in futuro altre zone ritorneranno ad essere accessibili e si spera che una grande quantità di fondi sia messa a disposizione in questo campo, di modo che anche tutte le altre civiltà esistenti possano essere studiate a livello più approfondito. Detto questo, riguardo al geroglifico, le informazioni che si trovano in rete e sui manuali sono buone, si suggerisce perciò di continuare a proporre un approfondimento su questa elaborata forma di scrittura. A mio avviso l'alfabeto più semplice su cui lavorare con i bambini è quello dei caratteri monolitteri di Champollion, il celebre studioso che partecipò alla corsa alla decifrazione a seguito del ritrovamento del frammento della stele di Rosetta. In realtà è bene specificare che la scrittura geroglifica è molto più complessa rispetto a ciò che si crede. In Egitto esistevano ed erano molto utilizzati anche lo ieratico ed il demotico, forme semplificate dei segni geroglifici. Di persone che sapessero davvero scrivere il geroglifico ve ne erano assai poche e facevano parte delle alte casse della famiglia del faraone o dei suoi più vicini collaboratori. Era per lo più usata infatti per iscrizioni sulle opere pubbliche. Ecco perché ne ritroviamo così tante nelle grandiose opere funerarie. Era una scrittura ritenuta divina. Inoltre comprende moltissimi segni, sia monolitteri che bilitteri che trilitteri che segni identificativi e la grammatica stessa comprende nomi, aggettivi, verbi, pronomi, regole di sintassi. È insomma una vera e propria lingua da imparare e di cui fortunatamente conosciamo ormai quasi ogni carattere e aspetto. Nell'immagine vi propongo come spunto di lavoro la traduzione di cartigli reali. I cartigli erano questi oggetti a forma ellittica che contenevano l'epiteto del faraone e di personaggi della sua illustre famiglia. Il nome all'interno è isolato da qualsiasi altro elemento di una ipotetica frase ed è perciò di semplicissima decifrazione. Ho inserito qui quello di Ptolemeo e di Cleopatra direttamente dalla pietra di Rosetta. Questa stede che vi ho nominato così tante volte contiene la trascrizione di un editto di Ptolemeo V Epifane per cercare di vi stabilire il dominio supremo e divino dei reti olemaici sull'Egitto durante un periodo turbolento della storia egizia. È datata con precisione grazie alla presenza di una data del calendario egizio riconosciuta come il nostro 27 marzo 196 avanti Cristo. Se qualcuno se lo stesse chiedendo il nome di Cleopatra che compare sul frammento non corrisponde a quella famosa donna della storia che si innamorò prima di Cesare e poi di Marco Antonio ma ad una sua omonima progenitrice della stessa famiglia tolemaica che regnò l'Egitto per ventre secoli dopo la morte di Alessandro Magno. Gli altri due cartigli provengono invece dalle tombe di Ramès Meriamon cioè amato da Amon. Un'informazione interessante che potresti non sapere è che la parola Maria deriva dall'egiziano Meri che è un verbo della sfera affettiva e può significare essere amato e di Tutmosis, faraoni rispettivamente della XIX e della XVIII dinastia. Abbiamo quasi finito. Gli ultimi appunti riguardano le fonti papirologiche e numismatiche. Le fonti papirologiche sono tutte quelle fonti letterarie scritte su questo materiale mobile e deperibile, il papiro, che è un foglio ricavato da una pianta acquatica della famiglia delle cipe eracee, che abbondava per l'appunto nelle zone palustri del Nilo. Il materiale scrittoio è stato utilizzato a partire dal III millennio a.C. e ancora una volta erano gli Egizi i grandi esportatori della materia prima in tutto il Mediterraneo. Su di esso ritroviamo infatti scritti soprattutto in lingua egizia, sia geroglifico che i dialetti demotico, ieratico e copto, ma anche greca e romana. I continui contatti, infatti, di questi mondi del grande mare nostro permisero la conoscenza sui metodi di trasformazione del materiale in tutto il mondo antico. Abbiamo la fortuna di aver ritrovato delle vere e proprie biblioteche e degli archivi semicompleti, che rendono la fonte papirologica una delle migliori per gli studi letterari e filologici, nonché storici, poiché il contenuto degli scritti fornisce le più disparate informazioni della storia politica, economica, prosopografica e sociale di un determinato periodo, luogo e civiltà. Vi ho messo qui un esempio simpatico di un papiro del II secolo a.C., che riporta due canzoni scritte in greco con note musicali ed annotazioni vocali, adatte ad un baritono. Vengono infine, ma definitivamente non per importanza, le fonti numismatiche, un altro enorme universo di studio. La disciplina, che prende il titolo dalla parola greca nomisma, cioè moneta, affronta lo studio di tutte le informazioni che si possono ricavare dalle monete. La prima vera moneta fu cognata a Degina, in Grecia, nel VI secolo a.C., e deriva dalla grande intuizione dell'uomo di poter usare un oggetto a cui dare un valore preciso per i commerci nazionali e internazionali nel Mediterraneo. In realtà, prima dei coni, già si utilizzavano oggetti quali lingotti di rame, stagno, ferro, che si trasportavano sulle navi e arrivavano in ogni grande porto del nostro mare antico e che venivano scambiati con materie prime e oggetti di lusso. Il primo conio fu una grande rivoluzione, che portò tutti i popoli del momento a sviluppare velocemente una propria moneta per poter supplire al commercio internazionale. E con il passare del tempo, ogni serie acquisiva non solo un valore ponderale, ma simbolico. Esistono infatti simboli, immagini che venivano usate per rappresentare i diritti e i rovesci della moneta di ogni città e che divenivano perciò identificative di essa. La maggior produzione conosciuta avvenne in epoca romana imperiale, quando oltre al significato simbolico si aggiungeva anche quello politico. Lo studio della circolazione delle serie monetali è importantissimo per cogliere i caratteri dell'economia in un determinato periodo, le crisi oppure i momenti di ricchezza, la crescita o l'aumento della domanda e dei valori. L'infrazione, ahimè, è un effetto che ha radici ben più remote di quello che si può immaginare. Oltre all'aspetto economico, ogni conio ha, come ho detto, un valore simbolico, e bisogna sottolineare che molto spesso un'immagine monetale è stata in grado di confermare presenze archeologiche, come quella di un ponte romano mai ritrovato, o di un arco costruito nelle province dell'impero e commissionato da tal imperatore, senza togliere tutti i caratteri stilistici e di campagna politica ed economica che sono compresi nella lettura dell'oggetto, o lo studio delle divinità che di solito occupavano i rovesci. Bisogna inoltre tenere presente che non tutti i paesi del Mediterraneo avevano sempre a disposizione la materia prima, il rame, lo stagno, l'argento, l'oro. Ecco qui che dalla produzione delle serie si possono studiare i contatti e gli scambi commerciali tra quei paesi che potevano offrire un metallo rispetto a un altro. Insomma, il mondo che si apre all'uso della parola numismatica è davvero immenso. Vi mostro un esempio di lingotti a forma simbolica, usati già dall'età del rame. Prima della circolazione delle monete greche, che iniziarono, come ho detto, ad essere cognate dalla zecca di Egina nel VI secolo a.C., i pagamenti avvenivano per lo più attraverso scambi equi di oggetti e produzioni artigianali di valore. Inoltre, uno dei metodi attestato, già dalla età del rame, era quello di fabbricare lingotti a peso standard, solitamente del peso di 30 kg. Questi lingotti avevano una forma simbolica. Per forma simbolica si intende quella della pelle di bue, molto conosciuta e utilizzata per secoli per la fabbricazione di questi lingotti di metallo differente. Per lo più, la scelta della forma ha essa stessa un valore simbolico, ci riporta infatti alla ricchezza che proviene dalla terra, dalla possibilità di arare dei campi, di produrre e di possedere anche animali domestici come il bue o la pecora. Non a caso, la parola latina pecunia, cioè ricchezza, deriva dal termine pecus, il greggio di pecore. Con questa slide, finiamo i diversi esempi e volge al termine la presentazione. L'ultimo appunto è il seguente. La realtà storica e la conoscenza storica non necessariamente coincidono. Le fonti non sono quasi mai oggettive o immutabili. È dall'interpretazione che deriva una sintesi storica. Un nuovo dato può sconvolgere la teoria precedente. La storia antica è di natura congetturale. Cosa voglio dire con ciò? Tutto quello che conosciamo oggi del passato deriva da una lunga storia di trasmissione di memorie, di eventi, di personaggi. Qualsiasi dato che è fornito dalla sintesi storica non necessariamente coincide con la realtà storica. Non si potrà mai essere certi che un dato evento sia accaduto in tutto e per tutto nel modo in cui noi lo pensiamo, senza contare del fatto che quello che leggiamo sui libri di storia è l'interpretazione di qualcuno, parole che noi reinterpretiamo a nostra volta. È come un lungo telefono senza fili. La lettura che ci arriva è inevitabilmente distorta e l'unico mio interesse è che voi e chiunque altro ne sia consapevole. D'altra parte questa verità è anche una di quelle cose che rende l'archeologia così affascinante, una disciplina che a mio avviso è sempre una scoperta. Perché dico che la storia antica è di natura congetturale? Perché il dato di oggi può sconvolgere quello di ieri. Vi ringrazio molto per l'attenzione e spero che questa lezione vi abbia dato spunti significativi, vi abbia fatto appassionare di più all'archeologia e vi abbia reso ancora più consapevoli dell'importanza dell'uso di una fonte per affrontare lo studio di un fatto con spirito critico. Ho inserito qui il mio indirizzo email di modo che qualora uno di voi ascoltatori avesse delle domande da pormi mi possa contattare. Sarò felice di rispondere. Inoltre ecco il link che vi porta alla visione del materiale che avevo preparato per i corsisti nel corso della scuola estiva di Arcevia 2020. Si tratta di svariate fonti e tracce che spero potranno esservi utili per gli approfondimenti con i vostri giovani studenti. In quest'ultima diapositiva inserisco una breve bibliografia ed il link a qualche interessante video che potete trovare su YouTube. Un caloroso saluto, ancora grazie e buon lavoro a tutti!